Infrastrutture e scuole, queste le priorità della provincia di Pescara che in concerto con la regione e i sindaci del territorio intende spendere così le risorse del recovery plan che giungeranno dall'Europa. Sono tutte diciamo prioritarie, poi in base ai fondi che avremo a disposizione dovremmo decidere le priorità, però le strutture strategiche, le infrastrutture strategiche avranno sicuramente una priorità e le scuole. I numerosi lavori previsti costeranno oltre 100 milioni di euro, tre progetti, una pista ciclabile che risalga il fiume Pescara dal mare fino alle sorgenti nei pressi di Popoli, ma anche il casello autostradale di Cappelle sul Tavo. Il casello autostradale di Cappelle per l'area Vestina è da tanti anni che si parla, è il fulcro, è il centro dello sviluppo di quell'area, perché a differenza dell'altra area, la Val Pescara, che è infrastrutturata con l'autostrada Roma-Pescara, con l'asset ferroviario che c'è su quella vallata, non ha, diciamo, la Valle Vestina non ce l'ha. Non è detto però che tutte le opere saranno realizzate, infatti non è ancora noto quanti soldi giungeranno da Bruxelles all'Abruzzo, né tanto meno alla sola provincia di Pescara. Questo è il punto interrogativo, diciamo di sì, perché comunque noi oggi abbiamo ragionato, come dicevo prima, sinergicamente insieme ai consiglieri, a tutti, indipendentemente da quello che abbiamo come disponibilità economica, perché abbiamo visto le cose necessarie del territorio della provincia di Pescara e poi si deciderà, in base a quello che ci sarà, si daranno delle priorità.